ciao ragazzi e bentornati in un video svuota la spesa allora abbiamo preso il prosciutto cotto poi abbiamo preso la specca poi abbiamo preso i fiammiferetti di speck il digarbonato limoni peperone pepsi due confezioni di zucchero due confezioni di panna mele una beggiamella poi una confezione piccola di ketchup un'altra pepsi due passate due bottiglie di vino una rossa una nera poi ho preso delle solette allora spesa abbiamo preso il prosciutto crudo yogurt attiva poi banane petto di pollo giallo allora spesa abbiamo preso anche placca un coltore pomodorini bagno schiuma la mandorla e carite poi la marmellata farmacia ripreso che ciò vi ho parlato in un video se vi interessa lo trovate tra i video e dei prodotti preferiti perché vi consiglio queste praticamente sono le capsule che io sto prendendo per le vene se vi interessa saperne di più trovate tutto in quel video poi poi i peperoncini le pastiche finish e il cotton fiocco alla prossima allora abbiamo preso passata un menoncino limoni pomodoro di l'insanata arance e una hamburger martigiana poi ho preso le tassicce queste gallette di riso con cioccolato vediamo come sono poi abbiamo preso i fichi le uova come basta quella di circoli penne lisce vabbè un po di odori percote minzana prosciutto venito zucchine percote e mele poi abbiamo preso una birra le patate fresche altre arance altre arance altre limoni altre percote due pepsi una due poi ho preso le bottigliene queste qua alla fragola allora spezzoni di scuola degli ossivi sono preso i togli oli cacchia igienica corona alla lavanda poi ho preso le candele tre candele alla ciliegia poi alle spezie festive e poi alla cannella sacchetti per la spazzatura 3 intimo 2 all'eucalipto 1 malva poi sapone per i piatti e il vanish spray che io lo utilizzo sulle macchie dei vestiti continuando ho preso un po di affettati questa sera quindi salame speck e poi grano poi ho preso tisana camomile melisse dilassante vediamo se va bene per me perché non riesco tanto a dormire ultimamente poi abbiamo preso i fischi d'inghia rupola il l'aggiugino poi il latte scatolette di tonno poi ho preso il caffè poi olive nere e bianche mele birra e poi i datterini della torrente a ciliegino che sono buonissimi allora abbiamo preso la mozzarella poi un po di pane poi abbiamo preso un soffritto i beperoni congelati e i polipetti allora abbiamo preso il tetto di pollo giallo sassicci d'acchino e i polipetti la rova la birra i limoni i tavalli poi il petto il petto i fischi d'inghia il petto è classico poi il basilico poi il basilico confezione di tonno qua ci sono i soli vitamini poi l'acqua di limoni mini spitini di pollo latte pe poi due confezioni di batterino fiammante una chiamina star verde star verde star se non è star non lo voglio poi mecceline e poi meloncino papà allora espressione di spesa abbiamo preso le pebre latte di tonno lattudino noci pomodotini pomodotini pantarree spinacine un po' di cotto coca in vetro e due pepsi poi poi abbiamo preso della monsana abbiamo preso le trafilata al bronzo le linguine becatole e il spaghetti e il spaghetti e il vino e la menzana e i fighi digne e poi i pezzetti di pane e un pesto allora spezzone di spesa collutorio un po' di candele tra cui questa è alla freschezza di bucato ciliegia e vaniglia poi il sapone igienizzante per le mani ho preso l'orzo di funghi e di esterne poi due infezioni di funkep una provola le bottiglie queste qua alla fragola poi un'ananas poi sottilette due tipi poi ho preso due contenitori per il pranzo per le maglie così poi limoni arance e poi abbiamo preso le uova ma purtroppo se ne ero tutta qualcuna e quindi ora devo pulire tutto allora congelati ok tre sofficini pesce gratinato un po' fish and crock con il un po' 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 uno spray uno spray per gli insetti una latte latte parzialmente scremato delle mele e delle zucchine allora abbiamo crudo bresaola parmigiano sere poi frittano sfilatino integrale vediamo come è sempre buono poi ho preso le barrette queste qua dell'aurosalto e poi due davanti da allora spesa abbiamo preso una pepsi zero zuccheri formaggini una birra due beciamelle grandi un fascetto di prezzemolo per cose tropecini patate bianche poi salame e arrosto di pollo poi vabbè ho preso il chiu un po' di pane che rimoro sia questi qua per vedere come sono e poi vabbè qualcosa per stasera per loro poi una bottiglia di vino rosso e è questo vino frizzante qua credo che sia frizzante allora rucola olio per friggere latte birra pomodori pelanti un po' di pepsi e patatine che un po' di pepsi un po' di pepsi